Ciao a tutti, sono Yad Erzoli e sono qui a presentarvi il nostro modello di punta per quanto riguarda la 29, questa bicicletta è la Ribot, è un altro cavallo celebre, è la bicicletta che stanno utilizzando Andrea Tiberi, Serena Calvetti e Daniela Veronesi e adesso ve l'illustro. Innanzitutto il telaio è un monoscocca in carbonio indirezionale del peso di 1200 grammi, la colorazione è opaca, come geometrie abbiamo 70 gradi nell'anteriore e 73 al posteriore, sono le geometrie che poi abbiamo riportato in tutta la nostra linea delle fronte da 100 mm di escursione, abbiamo cavo cambio e deragliatore integrati nel tubo obliquo, abbiamo il post mount sul fotolo orizzontale da 160 e abbiamo la forcella tonica, un pollice un mese, un pollice e un ottavo, abbiamo inserito praticamente non tantissimi contenuti tecnologici ma abbiamo cercato di guardare molto alla sostanza, in particolare il modello da 29 ha bisogno di avere ancora leggerezza e quindi abbiamo mantenuto il QR9 al posteriore che conferisce leggerezza a tutto il telaio e alla bicicletta nel suo insieme, ma abbiamo messo il QR15 all'anteriore, quindi l'asse passante che dà molta precisione e stabilità, direi che queste sono le caratteristiche principali di questa bicicletta che ha anche dato degli ottimi risultati perché i ragazzi che l'hanno utilizzata sono andati bene.